Fratellini e sorelline, buona e santa serata a tutti, con tutto, tutto il mio cuore. Vi ricordate l'esercizio che vi ho fatto fare l'altra sera con il rosario in mano? L'esercizio dei 50 grazie per 50 cose? Molti di voi mi avete scritto, ma davvero tanti, 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 per dirmi che avete fatto un'esperienza bellissima. Ecco, questa sera vi rinvito a riprendere in mano la corona del rosario. E questa sera diremo 50 perdono, Signore. 50 perdono, Signore. Voi farete con questo esercizio un gesto di grande amore a Gesù. Scoprirete con questo esercizio la misura del vostro amore al Signore. Perché voi dovete sapere che purtroppo nel mondo il cuore di Dio, il cuore di Gesù, il cuore della Madonnina nostra è molto offeso. E' molto oltreggiato, è molto umiliato dai peccati degli uomini, dalle bestemmie degli uomini, dalle immoralità degli uomini, dall'odio che regna nel cuore dell'uomo. E allora noi penseremo, scorrendo questi grani del rosario, per quale motivo io voglio chiedere perdono. Innanzitutto che siano dei miei atteggiamenti, che siano delle mie parole, che siano delle mie mancanze, che siano delle mie azioni. Ma anche pensando al mondo, per esempio, pensando alla guerra, al crimine della guerra. Soffermiamoci qualche istante domandando anche il dono della pace e chiediamo, perdonaci Signore. Pensando allo sfruttamento, per esempio, dei bambini in tante parti del mondo. Perdonaci Signore, pensando ai nostri peccati, a quelle miserie che ciascuno di noi possiede. Perdonaci Signore, ecco, ciascuno di noi faccia questo esercizio e alla fine vi sentirete più in pace. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Accogliete la santa benedizione. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Prima di lasciarvi e di darvi la buonanotte, vi ricordo che trovate il Vangelo commentato. Nel Vangelo di questa domenica vi spiego il peccato contro lo Spirito Santo. e poi, se Dio vuole, ci vediamo domani. Un bacio e buonanotte a tutti.